La Toscana è tornata in zona arancione, condizione che consente la riapertura dei negozi e nuovamente lo spostamento tra i comuni all'interno della regione per comprovate esigenze. Questo ovviamente consente una timida boccata d'ossigeno per le attività di vendita al dettaglio, in special modo per l'abbigliamento. Ma esistono situazioni in cui la mancanza di clientela proveniente da altre regioni o dall'estero mantiene il livello di criticità estremamente alto. È il caso di Forte dei Marmi e del suo centro commerciale naturale, i cui negozianti si vedono costretti ad affrontare una crisi senza precedenti, con le strade vuote proprio in quella che doveva essere la domenica ad inizio acquisti natalizi. Sì, qui purtroppo la popolazione è veramente bassa, sono 6.000-7.000 persone e soprattutto noi viviamo come economia sull'arrivo da altri comuni, per non dire anche da altre regioni, ovviamente. Come succede d'estate, purtroppo ora che è tutto blocchiato e non c'è la possibilità di spostarsi da un comune all'altro, è chiaro, è tutto fermo, completamente fermo. La situazione sta diventando veramente pesantissima da sostenere. E sebbene i grossi brand riescano in qualche modo a superare la mancanza di clientela, il grosso problema è rappresentato dai negozi tradizionali che ancora resistono al caro affitti e al commercio online. Sì, noi negozi tradizionali purtroppo soffriamo molto di più. I grandi brand, che qui sono presenti praticamente tutti o quasi, chiaramente hanno altri bacini d'utenza e riescono comunque anche con l'online a vendere, cosa che noi piccoli ancora siamo proprio all'inizio. E quindi per noi è veramente difficile, difficile perché finché non c'è circolazione di persone la situazione è veramente drammatica.